Bene, bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati, siamo in Excel Magico numero 192. Oggi ragazzi parliamo di questo bellissimo grafico che è un grafico a progressione ad anello. È un grafico che comunque è reso interattivo attraverso le nostre slicer, abbiamo qui la timeline che possiamo decidere i vari mesi in questo caso e possiamo decidere i vari venditori, ok? Quindi è un grafico interattivo che possiamo tranquillamente inserire all'interno delle nostre dashboard che abbiamo visto esempio in passato, ho creato delle dashboard dove avremmo potuto magari inserire questi grafici qua anziché il grafico a torta. Ecco, in questo caso qua si potrebbe sostituire tranquillamente al grafico a torta per rendere appunto molto più appetibile la nostra dashboard, ok? Bene ragazzi, questo grafico qua è un grafico normale, non è un grafico pivot perché fare questi effetti qua degli spazietti uno dopo l'altro non si può fare con i grafici pivot però possiamo farlo tranquillamente con un grafico normale e poi comunque renderlo interattivo perché comunque noi siamo comunque collegati a una tabella pivot, ok? Quindi quando cambiano qua i dati della tabella pivot perché io li filtro, ad esempio notate, eccoci qua, vedete? Io li filtro qua cambiano i dati e di conseguenza cambiano i dati che ci sono qua dentro, ok? È uno step in più rispetto a un grafico pivot però niente di impossibile, semplicissimo, ok? Bene ragazzi, quindi al bando alle cianci andiamo a vedere come fare il tutto Ecco, con la prima cosa ovviamente ragazzi abbiamo bisogno sempre di un database Database che questo qua è semplicissimo, un database di 611 records, ok? Abbiamo quattro campi, il campo della data, il campo dell'istretto, ci sono i permercati e supermercati Poi abbiamo il venditore e abbiamo il totale Questo database qua io l'ho trasformato da intervallo a tabella per il solito motivo che Quando andiamo a inserire dei records successivamente vengono presi dai nostri grafici, ok? Questo database qua io comunque gli ho dato un nome a questa tabella qua Infatti vado qua in struttura tabella e gli ho dato sempre un nome molto breve, db perché sono molto pigro Quindi a questo punto andiamo nel foglio Excel Mario 192 fine e andiamo a creare la nostra tabella pivot Mi posiziono qua nella cella A1, ecco richiamo la mia tabella pivot Inserisci tabella pivot da intervallo o tabella, ecco quando ho scritto tabella intervallo scrivo db, ok? Lo voglio in questo foglio qua nella cella A1, va benissimo, ci clicco Adesso semplicemente vado a mettere il totale dove ci sono i valori Vado a mettere il venditore qua dove ci sono i filtri e vado a mettere il distretto dove ci sono le righe, ok? Quindi ragazzi cosa abbiamo? Abbiamo ottenuto che qui possiamo selezionare anche il venditore, ok? Vedete che si adatta automaticamente, ok? Possiamo scegliere anche più venditori Ovviamente i filtri non li andiamo a utilizzare da qua ma utilizzeremo poi questi filtri qua che abbiamo visto qua sotto Che ovviamente sono collegati a questi filtri qua, ok? Tutto interconnesso tra di loro, ok? Ecco, la cosa buona e giusta è cambiare il formato, ok? Però non prima di aver messo un altro totale qua perché me ne servono due Uno sarà per la percentuale e l'altro sarà per i totali, ok? Cosa facciamo? Come prima cosa questo qua lo trasformiamo in percentuale Con il mouse destro andiamo mostra valori come e mettiamo totale complessivo, ok? Anche per fare questo ci sono diversi modi Ad esempio io con il mouse destro potrei andare qua in impostazioni campo valore Qua mostra valori, vedete qua potrei scegliere totale del campo complessivo Ecco, dipende anche dalla vostra versione di Excel che se non sbaglio Sulla versione precedente non c'è questa possibilità di mostrare i valori di qua, ok? Quindi vi ho fatto vedere tutto in due modi Ovviamente qua togliamo anche i valori decimali Possiamo toglierli da qua, possiamo fare così, ok? Forse è meglio utilizzarlo da qua perché io da qui il valore percentuale, vedete? Posso togliere i decimali, ok? Dopodiché qua dobbiamo dare un formato Possiamo decidere di farlo anche da qua Imposta campo valore Il campo valore formato numero E gli diamo un Facciamo contabile, anzi valuta Senza decimali ma con l'euro, ok? Ecco ragazzi adesso andiamo a richiamare il grafico Ecco, verrebbe spontanea come abbiamo visto anche sempre in altri video Cliccare qua sulla tabella pivot, andiamo qua in inserisci e andare a chiamare il grafico pivot, ok? Il grafico pivot ci serve a noi e il grafico a torta, ad anello, questo qua, ok? Ma questo grafico qua non ci permette di avere quelli spazietti che abbiamo visti prima Che rendono molto più progressiva il nostro anello Quindi andiamo a fare un grafico normale Quindi ragazzi adesso andiamo a richiamare il grafico quello progressivo Per cui anziché cliccare qua la tabella pivot, andiamo a cliccare esternamente, ok? Per cui un grafico senza dati, perché qua non ci sono dati Quindi inserisci Andiamo a cliccare non grafico pivot, ma grafico normale Andiamo grafico ad anello E gli diamo un formato Lo facciamo diventare quadrato Anziché qua 7,62 Anzi facciamo così Diamogli tutti e due 7,62 Così non se ne parla più Ok? Invio Abbiamo A questo punto abbiamo bisogno di dei dati, ok? Dei dati non andiamo a prenderli qua per il momento Ma semplicemente andiamo qua in struttura grafico Seleziona dati E andiamo a inserire qua Vedete? Qua ci sono le serie Aggiungi una serie di dati, ok? E gli diamo un nome a questa serie di dati qua Le chiamiamo progress, ok? Giusto per capire di quale serie di dati stiamo parlando E poi qua con un escamotage Se noi semplicemente scriviamo 1,1,1,1,1,1,1 Ecco possiamo fare tante quante volte vogliamo noi Io ne farò Adesso vediamo quante me ne vengono fuori Ecco qua ad esempio cannato Eccoci qua 1,1,1 Vediamo quante ne ho messe Facendo ok Bene ne ho messe 23 Ecco diciamo che sopra la ventina va benissimo Abbiamo creato, vedete, ok Abbiamo creato questo effetto qua Degli spazietti Ovviamente adesso dobbiamo togliere il titolo Togliamo la leggenda che non ci serve E diamo lo stesso colore a tutto quanto Ecco per dare lo stesso colore a tutta questa serie qua Ci clicco sopra Ecco qua con il mouse destro Formato serie dati Mi viene fuori qua il wizard E gli do a tutti quanti lo stesso colore Che nel nostro caso che colore era? Era il colore verde Ok? Quindi diamo un colore verde Ok? Usiamo sempre questo verde qua Ricordiamoci quale colore Perché poi questo colore qua Lo dobbiamo sempre richiamare Ok? Quando andiamo a creare poi le etichette Eccetera eccetera Ecco adesso mi posiziono qua Diciamo dove c'è il bordo Diciamo di questo grafico qua Lui ovviamente si è già posizionato In formata area grafico Che è il nostro menu contestuale Togliamo Mettiamo nessuna linea E togliamo Mettiamo nessun riempimento Ok? Così si presenta meglio Ecco adesso la stessa cosa Facciamo un duplicato Così siamo sicuri che le misure sono corrette Ecco per fare un duplicato Tengo premuto il tasto control E poi col tasto click Ecco qua ne creo un altro Ok? Con il click numero uno del mouse Ovviamente dobbiamo cambiare il colore Seleziono qua la serie dati E anziché verde In questo caso qua Lo mettiamo questo viola qua Che era lo stesso Che abbiamo visto prima Sì Ecco l'unica cosa che ho dimenticato Potevamo espandere un pochettino Anzi facciamo così Qua vedete qua Ci ho cliccato qua sulla serie dati E qua in opzioni dati Andiamo a selezionare questa icona qua E andiamo a mettere Non so Facciamo 65 Ok? Anzi Forse 65 è un po' troppo Facciamo 68 Ok? La stessa cosa anche qua Ok? Facciamo qui anche qui 68 Bene ragazzi A questo punto andiamo a creare Un'altra serie di dati Che andiamo poi a sovrapporla E con dei vari giochi Diciamo Di trasparenza E rendiamo tutto questo qua Progressivo Però Prima di creare la nuova serie di dati Dobbiamo fare una piccola funzione Una piccola formula Che mi dice Ok? Se io voglio Fatto 100 E 100 meno 30 E qua mi da 70 E qua ad esempio 100 meno 70 Mi da 30 Ok? Questo qua serve per costruire Due coordinate di dati Uno per In questo caso qua Per il 30 E l'altro per il 70 Ok? Bene Per fare questo è semplicissimo Semplicemente andiamo a fare Uno Ecco l'uno sarebbe il 100% Meno questo numero qua Che sarà 0,3 Eccetera 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 Ok? E do invio Vedete? Ecco Trascino verso il basso Perché siamo abituati a fare così Quando facciamo le formule Però attenzione Qua stiamo lavorando con le tabelle pivot Tutto un altro concetto Ok? Perché avendo inserito questa funzione qua Di default Lui va a vedere sempre Con il riferimento assoluto Questa cella qua Per cui non si adatta automaticamente Come siamo abituati a vedere Con le formule normalmente Però Andiamo a modificare manualmente Qua dove c'è scritto super Mettiamo hyper Ok? Per cui Scusate Nuova serie E qua dove ci sono le serie Vedete qua Aggiungi serie Ecco la prima serie Sarà relativa agli ipermercati Quindi gli diamo un nome Hyper Ok? E qua dove c'è scritto valori serie Vado a selezionare Questa etichetta qua Tengo premuto il tasto control Perché abbiamo delle celle non attaccate Quindi Quando abbiamo delle celle non contigue Facciamo così Vedete che lui mi ha già dato il risultato Che io mi aspettavo Cioè una serie con due coordinate Ovviamente questo grafico qua È da sistemare Anzi più che il grafico Bisogna sistemare le serie Quindi clicco qua La serie di dati O uno o l'altra Uno o due delle altre Va benissimo Vado qua in struttura grafico E qua vado a cliccare Attenzione Cambio di grafico Ecco notate qua Una cosa interessante Per via del fatto che qua Avevamo due serie di dati Lui ovviamente mi ha creato Un grafico combinato Ok? E lui si è posizionato E aveva già capito Che questo qua è un grafico combinato Questa qua è una cosa molto interessante Ecco qua abbiamo due serie di dati Ovviamente abbiamo La progress Che questa qua era verde E poi abbiamo gli hyper Questa qua intorno Ok? Ecco noi semplicemente Lasciando qua il tipo di grafico Ad anello Che andava benissimo Andiamo a cambiare qua Asse secondario E spunto questa qua Mi ha già dato l'anteprima Ed era quello che volevo Ok? Adesso io con un escamotage Clicco non una volta Due volte le serie Uno e una due In questo caso qua Gli diamo la trasparenza E vado qua nel secchellino E diamo qua Nessun riempimento Vedete che è successo? Abbiamo già quasi risolto il tutto E qua la stessa cosa Lo facciamo per questa Questa altra serie qua Per cui clicco una volta Clicco la seconda volta Qua lui si è posizionato Nella serie di dati Che ci interessa a noi Quindi qua in questo caso qua Andiamo a fare Riempimento a tinta unita Però gli diamo un colore Facciamo bianco Ok? Però ovviamente Giocando qua con la trasparenza Ecco qua Possiamo fare questo effetto qua Ok? A questo punto Facciamo la stessa cosa Per qua Ma ovviamente andrò Un pochettino Un po' più veloce Perché ovviamente Altrimenti Prendiamo troppo tempo Bene ragazzi Ci siamo Adesso facciamo una cosa Allineiamo tutti e due i grafici Ecco qua Clicchiamo il grafico Tengo preso il tasto shift Per cliccarli tutti e due Eccoci qua E li allineiamo Magari facciamo in altezza Allinea in alto Ok? Sono già abbastanza allineati Se non che magari Vi voglio avvicinare un pochettino Facciamo così Avviciniamo uno all'altro Eccoci qua Ecco io posso sfruttare In questo momento qua Vedete che qua ci sono Le linee di Excel Che poi andremo a toglierle Posso sfruttare magari Questa linea di Excel Ok? Ecco qua Ecco a questo punto qua Vi consiglio ragazzi Di raggruppare Io seleziono il primo grafico E poi seleziono il secondo E li raggruppo Perché li raggruppo? Perché così siamo sicuri Che non si muovono più Ok? Vedete che adesso Li possiamo spostare Tutti quanti insieme E non c'è nessun problema Poi la stessa cosa La faremo anche per le etichette Per le percentuali Per le slice E per tutti gli elementi Che andremo a inserire qua sotto Li andiamo a bloccare Ok? Bene A questo punto ragazzi Vediamo cosa dobbiamo fare adesso Andiamo a inserire le percentuali Ok? Come facciamo a inserire le percentuali? È semplicissimo Andiamo a inserire una casella di testo Andiamo qua Inserisci Casella di testo Andiamo a mettere una casella di testo Ecco qua Casella di testo Ok? Andiamo qua nella barra della formula Andiamo a linkare la percentuale Visto che qua stiamo parlando di ipermercati Ok? Metto il segno uguale Andiamo a cliccare qua E mi dà errore Vedete perché mi dà errore? Perché lui mi dà questa funzione qua E non la riconosce Quindi come facciamo ad avviare il problema? Semplicissimo Sappiamo che questa qua è nella cella C4 Non facciamo nient'altro che Cliccare qua nella nostra casella di testo Andiamo qua nella barra della formula E andiamo a mettere la cella C4 Ok? Invio Ovviamente qua gli diamo Togliamo il riempimento Togliamo la linea Gli diamo un formato Lo facciamo un po' più grande Eccoci qua Gli diamo un colore In questa cosa qua Era il verde Ricordiamoci qual era il nostro verde Possiamo dargli un grassetto Possiamo dargli anche altri formati Non so Vogliamo cambiare il font Possiamo divertirci un po' come vogliamo Ok? Qua possiamo stringere un po' Anzi facciamo una cosa Lo centriamo Mettiamolo Andiamo qua in home Lo mettiamo al centro Eccoci qua E stringiamo un pochettino Anzi direi facciamo un formato Un pochettino un po' più grande Ecco qua Ecco adesso Andiamo a farlo anche per questo qua Non faccio nient'altro Che fare un duplicato Tengo premuto il tasto control E con il click del mouse Faccio un duplicato Però ovviamente Anziché vedere la cella C4 Va a vedere la cella C5 Ok? Ovviamente è tutto da formattare Però io uso il pennello Con un'operazione smart Con lo tale che non devo rifare tutto quanto E cambio semplicemente poi il colore Ok? Questi qua Li allineiamo bene Tutti e due Anzi addirittura Mettiamolo qua in alto Forse è meglio Mettiamolo qua in alto Perché poi qua ci deve essere la scritta Ipermercato Supermercato Ecco ma dal punto di vista grafico Insomma avete capito come fare Poi potete divertirmi un po' come volete Ok? Quindi mettiamo la label qua Diciamo del ipermercato Ok? Quindi qua scriviamo Iper Andiamo a dargli Facciamo così Facciamo velocemente Eccoci qua E lo mettiamo qui Ok? Stessa cosa Inserisci una casella di testo Scriviamo qua Super E con il pennello Andiamo a dargli lo stesso formato Ok? Bene Vi suggerisco sempre ovviamente Di bloccare sempre tutto quanto In modo tale che Come vi dicevo prima Andiamo a cliccare il nostro grafico Tengo premuto il tasto shift Seleziono questo 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 E questo E andiamo a raggrupparli Ok? Per il discorso che vi dicevo prima In modo tale che è tutto bloccato Vedete che si muove tutto insieme Ecco adesso dobbiamo andare a utilizzare A mettere queste etichette qua Ma andiamo un po' veloci Perché diciamo che è la stessa cosa Che abbiamo fatto prima Ok? Quindi andiamo Anzi facciamo così Andiamo a Tenuto il tasto control Andiamo a fare un duplicato Qua Mettiamo Mettiamo uguale Facciamo la cella Questa qua B4 Perché siamo ipermercati Per cui B4 Invio Ecco qua Ecco qua Poi dipende anche il valore Che abbiamo dato Ecco era buona norma Aver messo anche l'euro Perché comunque E ci è comodo E ci è comodo Ecco qua Gli diamo lo stesso Pennellata Però attenzione Magari in questo caso qua Un po' più piccolino Togliamo il grassetto Perché qua il numero è molto più grande Facciamo così Lo ingrediamo un pochettino Eccoci qua Ecco se questo formato qua A me va bene Eccoci qua Facendo un control Andiamo a posizionarci qua Però ovviamente Anziché B4 Sarà B5 Ok E anziché Il colore verde Anzi facciamo così Diamo lo stesso formato Anziché il colore verde Però mettiamo il viola Ok Bene ragazzi Adesso andiamo a rendere Tutto interattivo Con i nostri filtri Ok Quindi non facciamo nient'altro Che cliccare Ovviamente Visto che questo qua Non è un grafico pivot Dobbiamo assicurarci Che andiamo a cliccare Alla tabella pivot Ok E di conseguenza Andiamo qua in inserisci Andiamo a inserire Sia i filtri Ok Andiamo a scegliere Il venditore Ok E andiamo a scegliere La sequenza temporale Che ovviamente Ho dimenticato Di cliccare Qua la tabella pivot Inserisci Sequenza temporale Che è la nostra timeline E gli diamo l'ok Ecco qua Per i colori ragazzi Si possono fare Tante cose Ok Però non lo facciamo adesso Perché per cambiare i colori Non è come cambiare i colori Per i grafici Non c'è ad esempio Vedete che qua Non c'è Un qualcosa Che ci permette Di cambiare i colori Possiamo richiamare I colori di default Che sono questi qua Che secondo me Sono un po' Noiosissimi Altrimenti Dovemmo Diciamo creare Uno stile personalizzato Cosa che io Ne ho già parlato In un altro video In Excel Dobbiamo ridurre anche La dimensione dei pulsanti Ad esempio Andiamo qua Vedete qua Io posso decidere Di farli un po' più piccoli Un po' più larghi Facciamo meno alti E li facciamo un po' più larghi Ok Oppure magari un po' più stretti Perché poi Dovemmo metterci qua La timeline Ecco anche in questo caso qua Il stesso discorso Anche per la timeline La sequenza Progressiva Ecco qua Sequenza temporale Scusate E non si può Diciamo dare un colore Da qui Non c'è un formato colore Il stesso discorso Che abbiamo fatto per i filtri Ma possiamo scegliere Un formato colore Che abbiamo qua Di default Oppure creare Uno stile personalizzato Ok Quindi ragazzi Vediamo se funziona La nostra dashboard Il nostro grafico progressivo Scegliendo appunto Qui da timeline O scegliendo appunto qua Dai filtri Vedo che funziona Tutto alla grande Bene ragazzi Diciamo che dal punto di vista Grafico è funzionale Diciamo che la nostra dashboard Va bene Ecco l'unica cosa Che io adesso vorrei Nascondere Tutto questa baradam qua Che non mi piace affatto Ecco Averebbe spontaneo Andare qua con il mouse destro E mettere nascondi Però tutti i dati Falsano Vedete che non funziona più Il grafico Perché questo qua Non è un grafico pivot È un grafico normale Quindi Alcune cose Non le trova più Ok Quindi ragazzi Facciamo ctrl z Torniamo indietro Possiamo fare una cosa del genere Ad esempio Noi questo grafico qua Ce lo spostiamo In un altro foglio E tiriamo la tabella pv In un altro foglio Però non prima Di avere collegato I filtri Ecco qua Tengo appremuto il tasto shift Anzi facciamo così Tiriamo prima appremuto questo Poi tiriamo appremuto il tasto shift E li raggruppiamo Anche in questo caso qua Anzi in questo qua Vediamo che è un po' troppo largo Vediamo Stringiamolo un pochettino Ok andiamo così Ecco qua Andiamo cos'ha Facciamo così Va bene Non facciamo intanto Che raggrupparlo Che abbiamo fatto prima Ecco qua Shift Eccoci qua Andiamo qua In formato forma Li raggruppiamo tutti E adesso li mettiamo In un altro foglio Per cui posso fare O taglia e incolla O copia e incolla Facciamo uno dei due Facciamo Scusate Ho selezionato il grafico E non tutto quanto L'ambaradam Ecco qua Facciamo così Copia Andiamo qua In un altro foglio E lo incolliamo Control V L'unica cosa però ragazzi Vedete cosa succede Se io cambio qua In questo caso qua Non funzionano le etichette Ma perché non funzionano le etichette Vedete che qua Rimane sempre il 30% E qua rimane sempre il 70% Perché ovviamente Se io ci clicco sopra Notate che qua È linkato sulla cella C5 Però La cella C5 Di questo foglio E non di quest'altro foglio Quindi cosa facciamo qua Andiamo a copiare Diciamo questo Indirizzo qua Andiamo qua In rinomina Control C Lo copio Andiamo Mettiamoci qua davanti Faccio dopo il segno uguale Metto Control V E metto il punto esclamativo Che vuol dire il numero del foglio Ok La stessa cosa La facciamo per qua Ovviamente qui è cambiato Tutto il formato Ok adesso andiamo a riformattarlo E Vediamo il viola Facciamo un po' più grande Eccoci qua Facciamolo così E anche qui la stessa cosa Vedete che qua Mi linka la cella C4 Però facendo un Control V E mettendo il punto esclamativo Adesso legge la cella C4 Però dell'altro foglio Quindi adesso diamogli una pennellata Ok Anzi però Anziché il viola Li mettiamo il verde Ovviamente ragazzi La stessa cosa Vale anche qua per i risultati Quindi ci mettiamo qua Dopo il segno uguale Control V Per incollare Punto esclamativo Per richiamare il foglio E diamo invio Ok Qua ad esempio Mi da la cella B4 Va benissimo Diamo solamente un po' di formato Anzi facciamo così Un'operazione smart Diamo questo formato qua Ovviamente in verde E la stessa cosa di qua Anziché B5 Control V Punto esclamativo Per richiamare il foglio Invio Ecco qua Diamo lo stesso formato Con il pennello L'unica cosa Che cambiamo il colore Eccolo qua Quindi ragazzi La nostra dashboard Funziona a tutti gli effetti Ovviamente si può Stilizzare sempre di più Si può migliorare tutto quanto Ma ovviamente Per richiamare altri stili Vi consiglio di andare a vedere Anche quello che abbiamo fatto Nelle dashboard Del video di Excel Magico 188 189 Ecco l'unica cosa Che mi sento di fare In questo momento qua È togliere le griglie di Excel Quindi andiamo qua In visualizza Togli Ecco qua No la barra della forma La lasciamo Togliamo solamente la griglia Ok Bene ragazzi Che dire è tutto Come al solito Vi do il consiglio Di provarlo Anche voi Questo esercizio qua Perché solamente provando Potete veramente imparare Quindi ragazzi Vi ringrazio Come al solito Per aver visto questo video qua Fino alla fine Mettete un like Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non vi siete mai iscritti Seguitemi sui social Commentate Eccetera Eccetera Grazie ragazzi E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti